Rosicando, rosicando, vai in giro l'interista, che si sente capolista? Ma com'è finita? Un saluto a tutti dal vostro Peter Pan bianconiero, qua siamo a Godea Bestia, ma perché sono partite che a noi non ci toccano, però ci hanno toccato tutte le parole, tutte le parole che avete detto voi, abbiamo vinto il campionato, siamo la squadra migliore, peccato che ci sono ancora tante partite, si avete una partita da recuperare, si siete migliori, più belli, più onesti, quelli con la divisa più bella, però intanto siete dietro di un punto, il Napoli è dietro di voi di un punto e la Juventus si avvicina, come dicevo io, attenzione, attenzione, ripeto, la Juve non può vincere il campionato, però può dare fastidio e quando la pressione della Juve si avvicina a 5 punti, a 4 punti, allora lì i nervi cominciano a saltare, ci ricordiamo lo scudetto perso dal Napoli nell'hotel di Firenze, ancora lo stanno cercando, io un'idea, ce n'è uno di cartone l'Inter, fatevi dare quello lì, o almeno l'ho strappato in due, sai che il cartone si strappa e si divide in due, una parte una, una parte l'altra, vi mettete lo scudetto, almeno siete contenti tutte e due, detto questo caro Interessa mi fa ridere il fatto che fino a qualche mese fa cantavi siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, e ora non te lo dico che sei un pagliaccio perché, giustamente questo video non è rivolto a tutti gli interisti, perché è normale che in mezzo a una mandra e scema uno sano ci sarà, quindi è rivolto al 95% degli interisti, oggi sono andato a fare una partita di calcetto qui in Germania, ho giocato con gli italiani, tra l'altro era 7 anni che non giocavo, 7 anni sono tantissimi, mi sono comportato abbastanza bene, anche se è arrivata l'ambulanza dopo 15 minuti a prendermi con le bombole d'ossigeno, però 15 minuti ce l'ho fatta. Diciamo, un Interessa qui ho detto scherzando, sai ci sono persone che ti salutano per strada, ma se ti vedono con la divisa della Juve, con la tutta della Juve, perché io giro sempre con le tute della Juve, non ti salutano più, e lui mi risponde, e io quasi li capisco, mi fa piacere, fate lo mio, gli ho detto, però sappi che questa è una forma di razzismo, giustamente c'è rimasto un pochettino lì perché è sembrato come uno schiaffo mentre uno dorme, no? Uno che ti dà del razzismo, ma che cazzo stendi? Ragazzi, mi è così? Razzismo non è solo la discriminazione verso una razza, un colore, una religione, è una discriminazione, quando tu discrimini un'altra persona perché ha una bandiera differente dalla tua, è razzismo. Se tu pensi che io sia una merda perché sono Juventino senza conoscermi, riuscire a solo, sei razzista. Se tu mi auguri il peggio perché io sono Juventino, ma non mi conosci, quindi magari potrei essere una brava persona come potrei essere un delinquente, comunque tu non mi conosci, e già mi etichetti così, sei un razzista. Il calcio dovrebbe allontanare il razzismo, però non si capisce e non si capisce a volte come che fa. Comunque detto questo, il mio messaggio è rivolto al 97%, prima era al 95% ma poi pensandoci bene al 97% degli interessi. Siete dei pagliacci, vi meritate di non vincere lo scudetto io da Juventino, mi auguro davvero che lo scudetto vinca una tra Napoli, anche se so che i napoletani o io, quando vi ci mettete o io, mamma mia, mamma mia. Non è che lo tritate, non è che lo tritate, lo fate proprio liquido, lo fate liquido, non ce la tritate, ce l'ho fatto liquido praticamente, diventa acqua, però giustamente sono 180 anni che non vincono niente, e Milan pure, e tanto che non vince niente pur di non farvi vincere perché siete proprio dei... non vi voglio, non voglio insultarli perché non hai da insultarli, però siete proprio dei chiacchieroni, è l'unica tiposseria in Italia che sono proprio dei chiacchieroni. Allora piuttosto preferisco che lo vinca una tra il Napoli e il Milan, così come vorrei che vincesse la Coppa Italia e la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina e la Coppa Italia sta eliminando tutte le più forti, magari si ritrova, adesso si ritrova la Juve, magari esce, naturalmente io sarei contento, però se la Fiorentina arrivasse a superare la Juve e poi vincere la Coppa Italia non mi dispiacerebbe da Juventino. Sì, detto questo ragazzi caro Intervista, parla un po' di meno, ssh, il silenzio, sei dietro, secondo posto, tra un po' arrivento il terzo posto, la Juve stasera contro l'Atalanta, vediamo che partita farà, detto questo un saluto, un abbraccio a tutti voi, se vi va iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto, un saluto dal vostro Peter Palmianconero, ciao a io!